Un ospite che di musica ne sa e ne sa parecchio, ma non solo, perché secondo me, e lo ripeterò fino alla fine, è l'artista più completa che attualmente abbiamo a Napoli, Cinzia Oskar. Eccola! Benvenuta Cinzia. Come stai? Tutto bene, buongiorno. Noi abbiamo una lunga chiacchierata da fare, però prima ti voglio sentire cantare. Bene. È uscito il nuovo album, ne parleremo dopo, unica interprete e insomma la canzone che attualmente è quella che ha colpito il nostro pubblico, il singolo insomma con cui tu hai lanciato questo disco è A Valigio, Racantà. È vero. Viva Napoli ieri, ma c'è anche la musica napoletana, quella vera di oggi. Cinzia Oskar. Grazie. Però la prima canzone credo che sia, Brimmi Fammi Rucutti, almeno credo. Ok, ragazzi, mi dite se posso? Va, Cinzia Oskar. Ok, prego. Grazie. 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 Grazie.